La scelta di girare questo film di Natale in una crociera è dovuta al fatto che tutti gli anni si cerca sempre un tipo di ambientazione che in quel momento è la più di moda del momento, la più up to date come si usa oggi e in effetti quest'anno ci siamo accorti un po' vedendo le pubblicità, un po' leggendo i giornali, gli articoli che la meta preferita dei moltissimi italiani era quella della crociera, oltretutto questo tipo di ambientazione si sposava benissimo con il genere del nostro film, con un'ambientazione elegante, con la possibilità di fare delle push-out e del divertimento e quindi siamo venuti sulla Costa Serena.